Vince di misura il Legnano che dopo un'estate travagliata si ritrova primo in classifica dopo i primi 180 minuti stagionali. A battere la folgore caratese degli ex Arpino e Vernocchi ci pensa la zampata dell'unico rimasto in Maglialilla dopo l'ultimo campionato, Gianmarco Staffa. Ora per la squadra di Mister Scudieri la prova del 9, mercoledì sera Carono Pertusella contro un'altra formazione a punteggio pieno, l'Arconatese. Un ulteriore successo regalerebbe quell'entusiasmo che la piazza ha perso dopo la stagione travagliata e il cambio di proprietà.